Ciao tifosi del Cagliari! Oggi, ci immergiamo in una notizia che sta scaldando il mercato dei trasferimenti del nostro Rosso Blu. Siete pronti per una novità che potrebbe cambiare le sorti della stagione? Sembra che il Cagliari stia puntando su un rinforzo di peso per l'attacco. Sì, stiamo parlando di Fabio Borini, l'esperto attaccante della Sampdoria. Con le recenti acquisizioni di Gennaro Tutino e Massimo Coda da parte della Samp, Borini potrebbe trovare spazio per una nuova avventura nella nostra squadra. Nereo Bonato, il direttore sportivo, sembra stia pianificando un vero e proprio colpo di scena in questa fase finale della finestra di trasferimenti estiva. Immaginate solo, Borini che porta la sua esperienza e abilità per rafforzare il nostro attacco. Ora, la grande questione è, riusciremo a concludere questo affare con la Sampdoria? Siamo tutti ansiosi di vedere come si svilupperà questa trattativa. E ora, tifoso, cosa ne pensi dell'arrivo possibile di Fabio Borini al Cagliari? Credi che sia il pezzo mancante per il nostro attacco? Lascia il tuo commento, condividi questo video e non dimenticare di lasciare un like. Andiamo avanti insieme, tifosi del Cagliari!